Sono Cristina Leonelli, professore ordinario di fondamenti chimici delle tecnologie. Da oltre 20 anni insegno chimica agli ingegneri. Sono attualmente impiegata presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Vi voglio presentare un corso dal titolo I saperi minimi della chimica per l'ingegneria, pensato per gli studenti delle scuole superiori che si accingono ad iscriversi ai corsi di laurea in ingegneria e per gli studenti dei corsi di ingegneria che vogliono ripassare i contenuti dei corsi di chimica seguiti alle superiori, prima di seguire il corso di chimica del loro percorso di studi accademici. In questo corso infatti vogliamo richiamare i concetti di base della cultura chimica per poter accedere con facilità ai corsi universitari di chimica per le facoltà, scuole e corsi di laurea in ingegneria. Il corso è suddiviso in quattro parti secondo un percorso logico che porterà lo studente dalla nomenclatura delle sostanze chimiche al significato quantitativo e qualitativo delle formule chimiche per passare nella terza parte ad impostare le equazioni di reazione ed infine per comprendere i rapporti quantitativi delle reazioni chimiche. Nel dettaglio i titoli delle quattro parti sono nomenclatura delle sostanze chimiche inorganiche con ceni di nomenclatura organica, significato quantitativo e qualitativo delle formule chimiche, impostazione delle equazioni di reazione ed infine reazioni e rapporti quantitativi. La chimica ricopre un ruolo molto importante fra le materie di base che sono inserite fra gli insegnamenti del primo anno dei corsi di laurea in ingegneria. Infatti oggi di chimica siamo circondati molto più di ieri. Semplici gesti come chiudere una zip di una giacca a vento in nylon o accendere il gas o prendere un'aspirina ci fanno capire quanto la chimica, quanta chimica c'è nella nostra vita quotidiana. In soli 200 anni la chimica ha dato un impulso a una serie di industrie ed è entrata a far parte delle nostre case, dei nostri dispositivi elettronici e del nostro abbigliamento. Ha invaso anche l'ambiente, fin troppo. Le nuove frontiere della chimica la vedono oggi impiegata nell'industria del recupero, del trattamento ecologico e dei sistemi anti-inquinamento.